Siamo sempre alla Fiera di Cesena, sono Romagnolo e guardate, guardate chi c'è, ma chi c'è? Lo conoscete tutti a un grande, Leonello di Radio Bruno! Ciao ragazzi, anche qui, lei qui, ma è dappertutto, lo so, voi siete preoccupati, dite ma come accendo la televisione, vado sul computer e c'è lei, purtroppo però è importante perché sono sicuro che vi porterà tanta energia, mi raccomando, quindi, ma dove siamo qua, dove siamo? Allora ti volevo chiedere, è sempre carino Leonello, Leonello, Radio Bruno, sono Romagnolo! Sono Romagnolo, siamo tutti Romagnoli ragazzi, tutti Romagnoli, mi raccomando, la musica che sentite sotto è l'orchestra Romagnola Doc, questa è la maglietta, io sono Romagnolo e anche Radio Bruno è Romagnola, quindi siamo anche tu, anche se, lo so, non sei Romagnolo, ma anche tu sei un po' di Romagnolo dentro ce l'hai, perché tutti sono un po' Romagnoli dentro, voi cosa state facendo? Allora, noi stiamo riprendendo, tutta questa tre giorni saremo qua, faremo dei frammenti di immagini dall'orchestra, intervisteremo per tutti i nostri programmi, voglio sapere tu cosa ci fai qua? Eh no, Radio Bruno è la Romagna, quindi noi siamo qui a tenere alto il nome della radio, come in questo caso con la musica Romagnola, quindi Radio Bruno non poteva non esserci. Quindi ti chiedo, è bravissimo, Leonello ma tu balli? Io sono un ballerino ragazzi, allora se adesso con me, sentite la musica? Ciao, manda la pubblicità, io sono Romagnolo, lei è Romagnola, e viva la patacca! Leonello sei un grande! Ciao ragazzi!